Giovedì, al nord anticiclone Zeus sempre presente. Giornata con cielo a tratti coperto o molto nuvoloso o nebbioso sulla pianura, nubi irregolari invece lungo i settori montuosi. Venerdì, giornata con temperature in ulteriore aumento e clima decisamente piacevole ovunque. Cielo a tratti nuvoloso con possibili nebbie mattutine sulle zone pianeggianti. Al centro, l'anticiclone africano Zeus è sempre presente, ma in questa giornata la nuvolosità sarà maggiore, specie al pomeriggio quando il cielo si coprirà su gran parte delle regioni. Venerdì, candelora con l'anticiclone Zeus pertanto a parte qualche nube in più sulla Toscana, per il resto avremo un cielo prevalentemente sereno. Clima piacevole di giorno. Al sud, anticiclone Zeus sulle regioni. La giornata vedrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con più nubi su tutti i rilievi. Temperature grossomodo stazionarie. Venerdì, l'anticiclone africano Zeus viene lambito da correnti più fresche dai quadranti nordorientali. Cielo spesso molto nuvoloso su Sicilia e Calabria, ma senza precipitazioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!